Chi voglia raccogliere notizie sull'ospedale di Agropoli, e gli interessati sono tanti, potrà andare a cercarle nel BURC della Regione Campania, sezione macroarea della provincia di Salerno. È inquadrato lì, nel piano spedaliero della Regione Campania 2019, come ospedale di zona disagiata, munito di un presidio di pronto soccorso. Inizia così, in una nota stampa Marzia Ferraioli, membro della Camera dei Deputati italiana dal 2018, in merito alla situazione dell'ospedale di Agropoli. Nella stessa sezione macroarea si legge anche che l'ospedale di Agropoli è una unità ospedaliera destinataria di una dotazione di 20 posti letto e che il presidio di pronto soccorso è una struttura inderoga. Ma che significa ospedali di zona disagiata? Che significa struttura inderoga e perché si parla di struttura inderoga? Si sono ospedali di zona disagiata quelli che insistono su territori orografici, esposti a problemi di viabilità di trasporti. Ed è, in ragione del suddetto disagio e delle suddette difficoltà, che li si indica come ospedali di zona disagiata. Se poi l'amministrazione regionale non coltiva la deroga che ha concesso, non fa investimenti, non eroga fondi, inevitabilmente lancia presaggi di una futura imminente chiusura. Agropoli a questo gioco non ci sta. L'ospedale di Agropoli va reinserito nella rete ospedaliera campana. Il tema serio è la presenza di taluni che fanno il bello e il cattivo tempo su un territorio che va liberato da intollerabili conflitti di interesse e che non ci si rifugi nel tema distanze tra l'ospedale di Agropoli e quello di Vallo e della Lucania, sede di idea di primo livello, perché i tempi di percorrenza e i collegamenti non sono né agevoli né rapidi. Allo Stato l'ospedale di Agropoli si riconferma ancora nella categoria degli ospedali in zone particolarmente disagiate. Intraprenderò ogni iniziativa parlamentare possibile. È giunta l'ora di pretendere una decisione seria e definitiva. Gli altalene non ci piacciono, conclude così la deputata Marzia Ferraioli.